Buongiorno, sono Carmen Oliva, titolare del ristorante di Serie Al Capriccio di Gruppello Cairoli e dell'Hotel Flower, dove adesso ci troviamo. Visto tutto quello che sta succedendo e essendo impotenti davanti a questa eminente guerra, abbiamo pensato di attivarci a qualcosa. E' distinto, mi è venuto di formare un gruppo su Whatsapp di amiche, colleghe, donne che conosco e che sono abbastanza attive nel paese, abbiamo formato questo gruppo e abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa per l'aiuto per l'Ucraina. E' stato scioccante la cosa, perché neanche il tempo di pubblicarla, sono arrivati in albergo dove abbiamo deciso di raccogliere tutti i cibi e l'abbigliamento, i vestiti e quello che potrebbe essere più vicinale e soprattutto più utile. Abbiamo pensato subito, vabbè, l'abbiamo pubblicato e è arrivata veramente una marea di roba che non riusciamo neanche a selezionare, infatti adesso ci stiamo attivando, chiedendo ancora aiuto per selezionare nei cartoni il pacco, un pacco famiglia, dove ci sia un po' di tutto per il primo soccorso. Niente, che dire, ci è venuto spontaneo, ce l'avevano tutti nel cuore, come penso che ce l'hanno tutti nel cuore, il nostro è stato una cosa istintiva ed è riuscito alla grande, perché abbiamo tutti voglia di comunque dare una mano e essere solidari con questo popolo. Grazie a tutti e niente.